Ultimamente nella nostra famiglia ci sono molti che hanno comprato casa e avete notato come le persone che acquistano una nuova casa sono premurosi nel farcela vedere? Quando ce lo fanno vedere sembra, ok, questa è la finestra, questi sono i mattoni, più o meno tutte le case hanno un tetto, no? Ma per loro è un sogno avverato, è l'investimento, è un grosso investimento, forse sono anni che sognano questo momento, quindi ci vogliono far vedere quando è allo stato grezzo, poi quando mettono le mattonelle, poi quando ogni piccola cosa c'è un entusiasmo e forse un pochino di invidia per noi che non possiamo avere una casa nuova, però dall'altra diciamo wow, questa persona è proprio appassionata di questa casa. E potremmo dire che quando tu sei entusiasta di una nuova casa non puoi non mostrarlo agli altri, mi ricordo anche i miei suoceri quando hanno costruito casa in Florida, che da pazzi vogliono lasciare per tornare al nord, non so perché, ma è un'esperienza bella vedere una persona entusiasta di questo. Ma lo sapete che anche noi abbiamo una casa che aspettiamo, vero? E oggi vogliamo vedere un gran finale, abbiamo passato insieme a studiare per sette settimane, abbiamo visto gli ultimi tempi e oggi vogliamo fare il primo tour, potremmo dire, della nostra casa futura. Non una casa dove vivremo per trent'anni, nemmeno una casa col mutuo, nemmeno una casa dove vivremo per mille anni, ma una casa dove vivremo per sempre. Vogliamo fare un breve ripasso di quali sono queste tappe per arrivare a questa casa. Vi ricordate le sette R, bambini conto su di voi. Qual è la prima tappa? Comincia con la R, la Ri, la Risurrezione e l'Ascensione di Cristo. Tutta la fine dei tempi parte con questo momento del ritorno di Gesù, e della sua ripartenza e della sua Risurrezione. Poi abbiamo visto la seconda R, bravissimi, il rapimento della Chiesa. Poi abbiamo visto una che è un pochino, cioè l'R, anche se non all'inizio, la Grande Tribolazione. Poi, numero quattro, abbiamo visto il ritorno glorioso di Cristo. Abbiamo visto anche il regno millenario di Cristo. Infine, la settimana scorsa abbiamo visto la rivolta e il giudizio finale. E oggi vedremo appunto il regno eterno. Il titolo che vedete anche sullo schermo qua è la promessa che cercherò di darvi è che guarderemo cinque promesse straordinarie per la nostra vita futura con Dio. Vogliamo pregare. Signore, grazie per il tesoro che abbiamo in te. Grazie che tu sei un Dio così misericordioso. E pensare che tutti noi meritavamo la fine di quelli che abbiamo visto la settimana scorsa. nel lago di fuoco, ma invece tu hai qualcosa di straordinario per noi. Una promessa straordinaria, un posto straordinario con una persona straordinaria, con la tua presenza. E, Signore, benedici questo studio. Aiutaci a veramente prendere tutto quello che tu hai per noi stamattina. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie? Molto semplice. Prendete la Bibbia, andate alla fine e tornate indietro di una pagina. Questo è lo studio più facile da trovare. E potremmo dire in un senso che oggi finiremo la Bibbia. Non è tutti i giorni che si può finire la Bibbia, vero? Leggeremo a pezzi, perché io non so, non si può dividere in meno di due capitoli. Dovremo leggere insieme due capitoli. Quindi, spero che il pranzo non avrete troppa fame. Saremo qui per un po'. Premetto che non riuscirò oggi a dire tutto quello che ci sarebbe da dire. E, veramente, la Bibbia non ci dice tutto quello che c'è da dire su questo posto. Perché immaginate un posto dove vivremo per sempre. Nemmeno si può misurare per sempre. Bambini, avete mai cercato di misurare l'eternità? E se cominci a contare non smetti mai. Muori e non smetti mai. L'eternità è un posto talmente lontano. Quindi, quello che al massimo possiamo fare stamattina è avere un piccolo assaggio. Per invogliarci ancora di più. Di vivere alla luce di questa promessa. Uno dei miei scrittori preferiti, uno dei scrittori preferiti dei miei figli, che ho cito mille volte, è un certo C.S. Lewis, conosciuto per le coloniche di Enarnia. E sono sette racconti. Se non l'avete mai letto, lui era credente. E ha scritto queste proprio come una metafora della vita cristiana. E alla fine, l'ultimo libro si chiama L'ultima battaglia. E alla fine loro, non vi dico così, si sa che muoiono tutti, perché alla fine è la fine. E vanno in questo nuovo posto. E lui la descrive in un modo molto bello, che non riuscirò mai a imitare la bellezza di quello che lui descrive. Però, l'immagine che mi rimasta impressa è, prendete una cipolla. Quando tu apri una cipolla, cioè la parte fuori è più grande, vero? E più togli gli strati, diventa più piccola. E lui dice che, secondo lui, i nuovi cieli e nuova terra saranno come una cipolla, solo che quando tu apri nuovi strati, entri ancora più a fondo e diventa più grande. E' un posto così meraviglioso, così perfetto, che non si finirà mai di scoprire il posto che Dio ha per noi. Così vogliamo cominciare a leggere. Guarderemo queste cinque promesse, cominciando con la prima. Leggiamo per adesso 21, da 1 a 8. Udi una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, ecco io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse, scrivi perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse, ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte e dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Mi fa venire i brividi questo testo. La prima promessa che vediamo stamattina è che il Signore Gesù, perché è il Signore Gesù, vi ricordate questa è la rivelazione di Gesù Cristo. Tutto questo libro parla di Gesù. Il Signore Gesù ci presenterà una nuova città in un nuovo mondo per dimorare con Lui. O se volete potete mettere per vivere con Lui. Ci presenterà un nuovo mondo, una nuova città. La prima cosa che impariamo qua è che il mondo di prima sarà sostituito con uno migliore, ma molto migliore, così migliore che non si dice, così migliore che non si può misurare. Durante il millennio, vi ricordate, abbiamo studiato che vivremo su questa stessa terra, ma in futuro saremo in un posto completamente diverso. E qui c'è una cosa molto interessante su cui possiamo riflettere. Quando uno crede in Cristo, la Bibbia dice che diventa una nuova creatura. Si sperimenta la nuova nascita. Oppure, se vogliamo usare una parola tecnica, che comincia con la R, tanto per cambiare, la rigenerazione, vero? Siamo nuove creature. Ma siamo sempre noi, è vero? Non è che diventiamo qualcun altro. E così è molto difficile da capire. Come vi ricordate che abbiamo letto nel capitolo precedente che la terra e il cielo sono fuggiti dalla presenza del trono bianco. Abbiamo letto in Pietro che il fuoco brucerà, distruggerà, dissolverà il mondo di prima. Però, in un certo senso, sarà la stessa terra. Sarà una terra completamente rinata. Ecco perché, proprio come noi rinasciamo in Cristo, così la terra stessa avrà una nuova nascita. Ma non soltanto il mondo sarà nuovo. Parla qui della Gerusalemme di prima, sarà sostituita con una migliore. Gerusalemme è la città più importante della storia della Bibbia. E mio padre, non sono molto bravo come lui a geografia, però dice che se tu metti tutti i continenti insieme, come qualcuno dice, la Pangea, no? Quell'idea. Se tu metti tutto insieme, Gerusalemme potrebbe essere al centro. Non citatemi su una rivista scientifica, però potete andare a vedere se è vero. Però Gerusalemme è il centro del mondo. È vero. Perché è il posto dove Gesù è morto per noi. È il posto delle promesse. E così la nuova Gerusalemme di prima, la Gerusalemme di prima, sarà sostituita con una nuova Gerusalemme. Giovanni 14. Gesù fa una promessa che è molto interessante perché ti fa capire che questa nuova Gerusalemme è già in atto. Gesù dice questo. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarai andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò, vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Parla di dimore, di un posto. La dimora preparata da Gesù per noi scenderà sulla terra. Chi è di voi, a proposito di geografia, ha mai sentito parlare di York, la città in Inghilterra? Nessuno. Beh, se c'è New York, o Nuova York, come si diceva una volta, vuol dire che c'è York. Eppure nessuno di voi, quasi, nemmeno ha sentito parlare. Io stavo per dire, qualcuno di voi dice, ok, immagino York con la cattedrale. No, non la conosciamo. Invece, New York, quanti di voi avete mai sentito parlare di New York? Quanti di voi avete visto un'immagine di New York? Se c'erano Genni e Francesco oggi, potevo dire quanti di voi avete vissuto a New York? Beati loro. York ha 200.000 abitanti. New York ha 8 milioni e mezzo, quasi, di abitanti. Vedete che è un po' come la stessa idea, che la nuova Gerusalemme, sì, sarà in qualche modo come la vecchia Gerusalemme, ma sarà una cosa molto meglio, è molto più grande, come vedremo. Ci sono molte cose importanti di vedere di questa città, ma la cosa più importante che dovete capire di questa città è questa, che Dio Padre vivrà sulla terra con noi. Sapete, c'è molta confusione su quello che succederà dopo la morte. Noi spesso parliamo di morire e andare in cielo, ed è giusto, ma poi allunghiamo, diciamo, di vivere sempre in cielo con Dio. Quanti di voi avete mai detto questo? Andremo a vivere in cielo con Dio per sempre. Non è vero. La cosa straordinaria qua è che Dio scenderà sulla terra a vivere con noi. Finora non era possibile, finora nella storia, perché anche nel millennio abbiamo visto che c'era il peccato. C'erano persone con cuori peccaminosi. Ma in quel momento, abbiamo appena letto il capitolo 20, che finisce col fatto che tutti i peccatori sono ormai nel lago di fuoco. In questo punto, il Dio Santissimo può scendere e vivere. E usa una parola molto interessante, dice, tabernacolerà con noi. Questa è una traduzione letterale. Il Tempio, come vedremo, non ci sarà più, perché ci sarà Dio. Il Tempio è per poter comunicare con Dio, ma non ci sarà più bisogno, perché Dio sarà presente con noi. E dice che asciugherà ogni lacrima, non ci sarà più mali, morte, sofferenza. Le cose vecchie, dice, sono passate. Potremmo veramente affermare al 100% Emanuele, Dio con noi. E chi è che fa nuove tutte queste cose? Io avrei indovinato il Padre. Ma se vediamo la storia della Bibbia, chi è la via per arrivare al Padre? È sempre Gesù Cristo. Chi è il Creatore? Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Lo vediamo in Genesi. E sapete, quando noi arriviamo alla fine della Bibbia, è come se torniamo a Genesi. Torniamo a un mondo perfetto, ma un mondo non soltanto che ritorna alla perfezione, ma che completa la perfezione. Cristo è colui che fa tutte le cose. Ecco perché lui è ancora qua sul trono. Abbiamo visto alla fine del 20 che lui era su questo trono bianco che giudicava. Dice qua che lui è l'Alfa, l'Omega. Lo ripete tre volte in questo capitolo. E Gesù, e nel prossimo, Gesù è quello poi, dice qua, che ci darà dell'acqua della vita. Vi ricorda qualcosa quest'acqua della vita? Esatto, il pozzo. Il pozzo dove lui ha promesso alla donna samaritana, io ti do dell'acqua che si soddisferà per sempre. E così vediamo questo stesso linguaggio in questi due capitoli. Ora, sapete, ho notato un problema. Un problema su come noi spesso vediamo il nostro futuro con Dio. Il problema a volte anche nel modo in cui evangelizziamo. Quando noi parliamo con le persone, giustamente siamo preoccupati del fatto che vanno all'inferno. E abbiamo la tentazione di dire, guarda, non andare all'inferno, se tu credi nel Signore Gesù, sarai salvato e potrai stare sempre in paradiso. C'è un piccolo problema di questo. È vero, ma la ricchezza di questo posto non è il posto. È la persona. Nello stesso modo in cui, purtroppo, noi abbiamo tutti, forse visto qualche film o forse storie vere, di persone che si sono sposate per convenienza, solo per avere un'eredità o per avere una casa, per avere dei soldi, forse una green card. Sono cose che succedono. Invece il matrimonio quale scopo ha? È l'unione di due persone. Così la nostra salvezza è l'unione tra noi e Dio. Quello che noi stiamo per vedere, l'oro, pietre preziose, giardini, tutto è bello. Però è come un matrimonio senza amore se noi non mettiamo Dio al centro di questa storia. Lettra C, la nostra eredità, quindi, sarà Dio stesso. Ve l'ho già anticipato. Dice che noi saremo vincitori. Chi è vincitore avrà queste cose. I nemici, invece, avranno un'altra eredità. Erediteranno la morte seconda, lo stagno ardente di fuoco, di zolfo. È molto interessante che ci sono diverse liste. È come se qui Giovanni fa un contrasto tra quello che noi erediteremo e le persone che non lo erediteranno. Lo vediamo qua con la lista Nicodardi increduli, abominevoli, omicidi, fornicatori, stregoni, idolatri e tutti i bugiardi. Chi di noi può dire che non ha mai detto una bugia? Se tu hai detto una bugia nella vita, tu sei un bugiardo e tu meriti il lago o lo stagno di fuoco e di zolfo. Questo è il posto che tutti noi meritiamo. Ma coloro che hanno creduto sono vittoriosi in Cristo e non avranno questo. Si vede ancora un'altra lista? Versetto 22, versetto 22, 15, 18, versetto 18, 19 di 22. Quindi vuole che noi vediamo ancora questo contrasto tra quello che noi riceveremo e se tu ancora non sei credente è quello che non riceverai e quello che invece sarà la tua eredità. Quindi ti devo invitare, prima di andare al secondo punto, da che parte starai in quel giorno. Un grossissimo avvertimento per noi tutti di valutare il nostro rapporto con Dio. Ok, andiamo avanti. Ovviamente qualcuno di voi si preoccupa. 21, ho perso il segno ma non è difficile ritrovarlo. 21, versetti da 9 a 27. Il secondo punto è questo. Il Signore Gesù ci porterà anche in un luogo straordinario. E adesso voglio farvi vedere da lontano questa città dove voi che avete creduto nel fioro di Dio vivrete per sempre. 31, da 9 a 27. Vi avverto, non starò a spiegarvi tutti i dettagli. Potete andare sulla Bibbia commentata da MacArthur o su internet, forse. Ma ci sono tantissime cose belle da vedere. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppie piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo vieni ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio. Con la gloria di Dio il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima come una pietra di diaspro cristallino. Aveva delle mura grandi e alte, aveva dodici porte e alle porte dodici angeli. sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle dodici tribù dei figli di Israele. Tre porte erano a Oriente, tre a Settentrione, tre a Mezzogiorno e tre a Occidente. Le mura della città avevano dodici fondamenti e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. E colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. E la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era dodici mila stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali. Ne misurò anche le mura ed erano di centoquarantaquattro cubiti a misura d'uomo adoperata dall'angelo. Le mura erano costruite con diaspro e la città era d'oro puro simile a terzo cristallo. I fondamenti delle mura della città sentite bene erano adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro il secondo di draffiro il terzo di calcedonio il quarto di smeraldo il quinto di sardonico il sesto di sardio il settimo di crisolito l'ottavo di berillo il nono di topazio il decimo di crisopazio l'undicesimo di giacinto il dodicesimo di ametista le dodici porte erano dodici perle e ciascuna era fatta da una perla sola. La piazza della città era d'oro puro simile a cristallo trasparente. Nella città non vidi alcun tempio perché il Signore Dio Onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illuminano perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse la notte non vi sarà più e lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni e nulla di impuro né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Un luogo straordinario. Alcuni hanno cercato di dire no questa è una metafora ma una metafora così precisa con le misurazioni come abbiamo deciso di seguire la Bibbia letteralmente in modo storico letterario grammaticale così questa è una città vera con vere misurazioni e una domanda mi sono fatto e il nostro caro pastore MacArthur mi risponde non mi piace citarlo ogni domenica però c'è molte cose utili soprattutto su questo argomento e mi sono chiesto perché Gerusalemme è chiamata la sposa dell'agnello non è la chiesa la sposa mi ha confuso un pochino perché già l'abbiamo letto due volte e lui risponde in modo molto chiaro mentre il termine sposa spesso si riferisce alla chiesa per estinzione qui si riferisce alla nuova Gerusalemme come dimora dei redenti di tutte le età prima la sposa era solo la chiesa ma si è allargato a raggiungere in modo che tutti siamo uniti come un'unica famiglia in Cristo un unico Cristo un unico salvatore per tutti i redenti di tutte le età vediamo qui che è un luogo splendente e glorioso versetti da 9 a 11 abbiamo letto splendente e glorioso interessante che qui vediamo un angelo che presenta la città e questo angelo è lo stesso che aveva presentato a Giovanni Babilonia che era un'altra città e come questa è la sposa quella è descritta come una prostituta che grande contrasto vediamo qui poi un'immagine poi quando riusciamo a capire quanto è grande questa città ci stupirà ancora di più dice che che Giovanni era su una montagna e da questa montagna ha visto scendere questa città dal cielo quindi sappiamo che il mondo non avrà solo la nuova Gerusalemme questa è una città su un mondo che Dio crea e si potrà anche uscire perché le porte saranno aperte e sarà il Signore Gesù che ci porterà in questo luogo in cui splendore la purezza e la sua sicurezza come vedremo sono solo superati da una cosa ancora più strabiliante la presenza stessa di Dio quindi un luogo splendente e glorioso ma anche un luogo sicuro e prezioso perché sicuro e prezioso come ho detto ai bambini del Campostivo l'anno scorso vi ricordate abbiamo detto che noi vivremo dentro un tesoro qualcuno di voi magari ha visto il paperon dei paperoni che si buttava nel suo tesoro ma noi vivremo in un tesoro sarà una città protetta da mura altissime quindi anche sicurezza non soltanto prezioso ma anche sicuro mura altissime spessissime e preziosi secondo le misurazioni moderne queste mura saranno spesse 65 metri saranno alte indovinate un po' quanto queste mura non ci crederete mai dice qua quanti stadi quanti di voi sapete misurare gli stadi beh pensate a uno stadio che più o meno è la misurazione di uno stadio arriviamo a una misurazione di 2.221 chilometri un muro così alto ma non soltanto così alto così lungo sarà praticamente un cubo tutto questo muro di una pietra preziosa diaspro un materiale rosso quasi sempre rosso considerato adesso semi prezioso ma in quelle quantità preziosissimo sicuramente sarà protetto poi da 12 fondamenti alcuni voi siete andati in Israele e siete andati al muro del pianto il muro del pianto non è il muro del tempio è il muro delle fondamenta del tempio e così un muro sicuro ha bisogno di fondamenta e queste fondamenta saranno preziose saranno di pietre preziose e ogni muro e ogni fondamento ne sono 12 avrà sarà riconosciuto come nome di uno degli apostoli è molto interessante questo fatto perché ci ricorda anche le 12 pietre che usava il sommo sacerdote quando quando gli indiussava tutto il suo vestito come sommo sacerdote quelle 12 pietre e quella è l'idea perché saremo con Dio saremo nel tabernacolo Dio tabernacolerà con noi e poi sarà protetto come ho detto da 12 porte con 12 angeli con i nomi non gli angeli ma le porte con le 12 tribù di Israele tre tribù o tre porte per ogni lato non posso immaginare quanto siano grosse queste porte perché se un muro è lungo 2220 km ci sono solo tre porte fortunatamente in quel mondo non ti dimentichi qualcosa a casa che devi tornare e poi saranno sempre aperte queste porte queste porte mostrano che è il posto più sicuro di tutto l'universo con anche dei guardiani feroci angeli ma non ci sarà nemmeno bisogno perché non ci sarà il male e poi per voi donne chiamate le perle immaginatevi queste porte porte sempre aperte fatti ogni porta è fatta da un'unica perla abbiamo già detto che devono essere delle porte molto grandi immaginatevi una porta così preziosa ma non soltanto questo ma è anche un luogo luminoso e santo abbiamo già visto quanti erano preziosi e sicuri illuminato da Dio stesso e dall'agnello Dio è la sua luce senza bisogno di tempio illuminerà le nazioni che verranno ad essa tutti verranno ad adorare Dio avranno un rapporto perfetto con Dio in quel momento non soltanto gli ebrei ma tutte le nazioni e non ci sarà la notte non ci sarà più bisogno di sole né di luna sarà sempre giorno non ci stancheremo mai ovviamente ci sarà sempre luce solo persone sante scritte nel libro vi entreranno sicuramente ogni volta che leggeremo un salmo o canteremo quella canzone anche sui Gerusalemme che abbiamo nel nostro libro dei canti forse potremmo pensare a questa Gerusalemme che veramente è preziosa la gioia della terra questa sarà la nostra gioia ok vogliamo andare avanti al secondo capitolo di Apocalisse capitolo 22 versetti da 1 a 5 per vedere la terza promessa straordinaria della nostra vita futura con Cristo e con Dio il Signore Gesù ci accompagnerà dice la benedizione più totale poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita limpido come cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita esso dà dodici raccolti all'anno porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni non ci sarà più nulla di maledetto nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello i suoi servi lo serviranno o meglio tradotto lo adoreranno vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte non ci sarà più notte non avranno bisogno di luce di lampada né di luce del sole perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli il Signore ci accompagnerà nella benedizione più totale se prima abbiamo guardato questa città da fuori adesso Gesù con le chiavi in mano che poi non servono perché la porta è aperta ci accompagna già abbiamo intravisto questa strada principale fatta ad oro abbiamo intravisto la piazza laggiù in mezzo adesso ci dice dei dettagli importanti e guardate questa immagine mi ricorda come Gesù è il nostro buon pastore Gesù ci accompagnerà nella dimora futura mi piace come finisce il Salmo 23 dice certo beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni lunghi giorni vuol dire per sempre e cosa sono le cose come ci provvederà per noi questo buon pastore versetto 1 vediamo che ci disseterà Giovanni 4 10 Gesù rispose se tu conosci il dono è quello della samaritana il dono di Dio e chi è che ti dice dammi la bere tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva la donna gli disse signore tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo e dove avresti dunque quest'acqua viva e Gesù rispose chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna la prima cosa che vediamo qua è che saremo dissetati da Dio stessa e dall'agnello ma non soltanto saremo dissetati non soltanto ci disseterà ho saltato un pezzo la terza promessa la terza promessa è questa che è la benedizione più totale mi piace che lei fa la domanda che tutti voi forse vi chiedevate ci disseterà vediamo questo fiume d'acqua viva e poi dice che ci guarirà è un po' difficile capire ok siamo già morti e risorti in corpi nuovi perché parla di guarigione sarà una continua guarigione per il male che abbiamo vissuto nella vita per il male che abbiamo osservato anche nella vita ci nutrirà dice dell'albero della vita se prima c'era l'acqua della vita adesso vediamo l'albero della vita forse qualche commentario dice un frutteto intero di questo albero della vita perché se no non si capisce l'albero è in mezzo al fiume dice sui due lati lo capiremo meglio quando ci arriveremo Apocalisse 2 7 B dice a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio quindi se parliamo di paradiso stiamo parlando di questo posto mi piace una citazione del dottore più famoso di tutti i tempi di Ippocrate che ha detto fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo in quel giorno veramente questo cibo sarà la nostra medicina e ci guarirà di ogni brutto ricordo di ogni tristezza sarà la medicina che Dio ci darà che guarirà le nazioni non mancherà poi dice mai frutto da quell'albero io ho a casa dei fichi e dei peri bellissimi però fanno un sacco di frutta in tipo due settimane invece qualsiasi momento che andremo a quell'albero mangeremo le foglie ci saranno da medicina per consolare i nostri cuori anche se abbiamo già visto che Dio fa un ottimo lavoro di consolazione qua ok la terza cosa non soltanto ci guarirà ma ci ispirirà ispirirà dice qua non ci sarà nulla di maledetto e i suoi servi i suoi sundulos i suoi coschiavi lo serviranno che la parola non è una parola servizio normale è la parola del servizio nel tempio ok è una parola religiosa sta parlando del fatto che noi lo serviremo sarà un atto di adorazione verso di lui e voglio chiarire un fatto in cielo non ci sarà ozio non ci sarà mai noia bambini ho detto cielo vedete come è una brutta abitudine nella nuova terra sto imparando anch'io avremo sempre da servire Dio come nel giardino era una gioia per per Adamo ed Eva prendersi cura degli animali e delle piante ancora di più saremo lì per servire Dio per l'eternità mi piace molto uno dei versetti preferiti Romani 12 1 dice che noi dobbiamo presentare i nostri corpi come in sacrificio vivente santo gradito a Dio questo è il vostro culto spirituale e questa è l'idea tutta la nostra vita sarà un'adorazione perfetta a Dio ok non soltanto ci ispirerà ci accoglierà e qui c'è un'immagine di un'intimità che noi possiamo solo sognare primo corinzi 13-12 dice poiché ora vediamo in uno specchio in modo oscuro ma allora vedremo faccia a faccia ora conosco in parte ma allora conoscerò pienamente come anche sono stato perfettamente conosciuto c'è un'intimità in questo posto dice che saremo faccia a faccia con Dio non soltanto saremo faccia a faccia con Dio ma Lui ci darà il suo nome adesso abbiamo il nome di Dio siamo cristiani ma in quel giorno ancora di più dice in Apocalisse che ci darà anche una pietruzza bianca con un nome che solo Lui sa per noi non so se sta parlando della stessa cosa forse è una un nome un cognome non so esattamente ma è una cosa che mi stupisce sempre che Dio ci dà il suo nome ci dà la sua approvazione mi ricorda una storia che ho sentito anni fa di quando Alessandro Magno era davanti a un giovane che era fuggito durante la battaglia e aveva molta tenerezza verso questo giovane però a un certo punto gli chiede come ti chiami questo ragazzo dice mi chiamo Alessandro potete immaginare la furia del più grande guerriero forse di tutti i tempi gli ha detto queste parole cambia il tuo nome o cambia il tuo comportamento Dio ci darà il suo nome Dio non ci vedrà più vi ricordate avremo già avuto il nostro momento di valutazione con Lui non ci vedrà più per i nostri peccati ma ci vedrà con il sangue che ci ha lavato di Gesù Cristo il massimo sacrificio infine abbiamo visto qua ci illuminerà non soltanto ci accoglierà è un posto così luminoso non ci sarà più bisogno delle invenzioni di Edison non avremo più lampadine non avremo più sole non avremo più bisogno di altra luce perché avremo la luce della presenza di Dio ok dopo aver mostrato la nostra casa futura la nostra casa perfetta Gesù ci vuole ancora dare una cosa per i presenti spero che non vario troppo lungo oggi ma non puoi non predicare questo messaggio tutto insieme la seconda parte vedrete è molto più breve il Signore numero 4 la quarta promessa è che il Signore ci dà certezze 22 da 6 a 16 poi mi disse queste parole sono fedeli veritiere e il Signore il Dio degli spiriti e dei profeti ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi cervi ciò che deve accadere tra poco ecco io vengo presto beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro io Giovanni sono quello che ha udito e visto queste cose e dopo averle viste e udite mi prostrae ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo ma gli mi disse guardati dal farlo io sono un servo come te e come i tuoi fratelli profeti e come quelli che custodiscono le parole di questo libro adora Dio poi mi disse non sigillare le parole della profezia di questo libro perché il tempo è vicino chi è ingiusto continua a praticare l'ingiustizia chi è impuro continua a essere impuro e chi è giusto continua a praticare la giustizia e chi è santo si santifichi ancora ecco io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere io sono l'alfa e l'omega il primo e l'ultimo il principio e la fine beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'abbero della vita e per entrare per le porte della città fuori i cani gli stregoni i fornicatori gli omicidi gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese io sono la radice e la discendenza di Davide la lucente stella del mattino il Signore ci dà certezze siamo certi del suo ritorno imminente come dice qua volevo mettere il titolo però non era completo di tutto quello che abbiamo visto oggi ma volevo dire vivere con i bagagli pronti e questo è il nostro atteggiamento per qualcuno di voi è più facile qualcuno di voi si sposta meno ma dobbiamo vivere con i bagagli pronti Gesù dice ecco sto per venire pensate quando è importante questo messaggio per i credenti perseguitati del primo secolo e anche per i credenti perseguitati in tutto il mondo oggi certi del suo ritorno imminente ma anche certi del suo messaggio queste parole sono fedeli e veritiere dice certi del suo messaggio certi del nostro futuro qui veramente è una volata verso la fine di questo libro dice sto per venire versetto 12 e con me avrò la ricompensa poi in 14 dice beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto al ladro della vita certi del nostro futuro e infine certi della sua persona la cosa più importante è che Gesù si rivela a noi in questo testo e ci rivela il padre vediamo qui la sua autorità vediamo qui la sua maestà dice io sono la radice la discendenza di Davide l'alfa e l'omega il principio e la fine Gesù il nostro re la nostra autorità dobbiamo vivere alla luce del ritorno imminente e vivere le vite pure e sante al suo servizio adesso con lo spirito santo non ci resta che appellare a Gesù come vediamo negli ultimi versetti da 17 al 21 e con questo si conclude la Bibbia lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ode dica vieni chi ha sete venga chi vuole prende in dono dell'acqua della vita io lo dichiaro a chiunque o delle parole della profezia di questo libro se qualcuno vi aggiunge qualcosa Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro colui che attesta queste cose dice sì vengo presto amen vieni Signore Gesù la grazia del Signore Gesù sia con tutti punto numero 5 questa mattina la quinta promessa è che il Signore ci soddisferà con la vita eterna con Lui lo spirito vi rendete conto lo spirito santo anche Lui sta aspettando questo ritorno Lui è qua con noi nei nostri cuori sulla terra con noi e Lui dice vieni ma vediamo anche qua che è un invito aperto per la salvezza a tutti la salvezza è c'è un invito aperto e ti devo chiedere hai la certezza di passare l'eternità con Dio hai questa certezza dice qua che c'è una maledizione su quelli che tentano di cambiare questo messaggio quanto è importante che questo messaggio sia lo stesso messaggio che ci è arrivato e infine Gesù conclude e dice io vengo presto il Signore non tarderà primo corinzi 15 con cui ho cominciato questo studio il pastore il pastore Daniel dice di fatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è accettuato quando ogni cosa gli sarà sottoposta allora anche il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa affinché Dio sia tutto e in tutti non saremo accolti in questa terra né dalla Madonna né da San Pietro con le chiavi che poi non servono le chiavi la porta è aperta a questo punto nemmeno dagli angeli nemmeno dai santi ma siamo accolti da Gesù è Lui la nostra via la nostra verità la nostra vita il Signore ci presenterà quindi una nuocita un nuovo mondo per dimorare con Lui il Signore ci porterà in un luogo straordinario ci accompagnerà nella benedizione più totale ci darà certezze e ci darà vita eterna Isaia 65 dice gioite si esultate in eterno per quanto io sto per creare poiché ecco io creo Gerusalemme per il Gaudio e il suo popolo per la gioia Dio ci ha creati per la gioia ha creato questa città dove noi vivremo per la gioia Apocalisse 3 ci ricorda parlando proprio alla chiesa abbiamo visto questo messaggio è diretto alla chiesa lo dice Gesù stesso chi vince io lo porrò come colonna del tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più scriverò su di Lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio avremo il nostro indirizzo scritto su di noi la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio è il mio nuovo nome chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese preghiamo Signore è difficile finire questo messaggio perché in qualche modo per un attimo vivevamo con Te in questo posto vivevamo in un posto così perfetto così prezioso e Ti vedevamo come Ti vedremo faccia a faccia e avremo un'intimità una perfezione una santità che nemmeno possiamo immaginarci grazie per queste promesse grazie che Tu tocchi le nostre vite aiutaci a rivederci delle nostre vite spesso sprecate nei nostri interessi temporanei che siano videogiochi o lavoro o sport o cibo ozio lettura qualsiasi cosa qualsiasi muro paure Signore ti prego di concedere il ravvedimento a coloro che ancora vivono lontani dalla grazia Tua per i nostri figli per i nostri nipoti fratelli genitori amici compagni colleghi datori di lavoro vicini di casa governatori aiutaci a vivere con i bagagli pronti e soprattutto gli occhi puntati verso le nuvole da dove Tu tornerai Amen vieni Signore Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti